Come Presidente del Comitato degli Alcollatori ringraziamo tutti gli sponsor che hanno contribuito anche che la festa si potesse organizzare. Ringrazio gli alcollatori e ricordo agli alcollatori che l'orario va rispettato e quindi nelle sette stiamo in piazza Matteotti e le sette e quindi danno il vostro collo da suono, va bene? Ringraziamo il Comitato che ci ha aiutato e ha organizzato la festa, ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito, associazioni, l'amministrazione e tutte le singole persone. Ecco colgo l'occasione come rappresentante portavoce, noi ci auspichiamo per i prossimi anni indipendentemente di come andranno le cose che veniamo aiutati anche dall'amministrazione a fare ancora di più rispetto a quello che che già sta facendo adesso, ancora di più.